Via le panchine da piazza Risorgimento Acquarrata. La decisione dell'amministrazione comunale, seppur non presa a cuor leggero, è il tentativo di evitare assembramenti e cercare in ogni modo di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini. Il sindaco oggi è un gesto forte perché vengono rimosse le panchine da piazza Risorgimento. Perché questa decisione? Sicuramente un gesto forte, ma un segnale importante che vogliamo dare alla nostra comunità. Noi non siamo in un momento particolarmente drammatico per quanto riguarda il contagio del Covid, però stanno aumentando e questo ci deve far riflettere tutti su quelle che sono il rispetto delle regole a cui dobbiamo attenerci. Per cui proprio per il rispetto di queste regole, siccome queste panchine, che sicuramente sono utilissime per la comunità, per le persone anziane, per i giovani, per stare 10 minuti a sedere, mezz'ora a sedere, però erano diventate il luogo di aggregamento. Ecco, per questo motivo, proprio perché gli aggregamenti sono vietati, è consigliabile indossare la mascherina e quant'altro, vogliamo dare alla nostra città un segnale forte di attenzione e per questo motivo togliamo le panchine. Lo facciamo con dispiacere perché sappiamo l'importanza di queste panchine per tutti, però credo che quello che ci deve muovere è la salute di tutti noi e di tutta la nostra comunità. Per cui questo segnale voglio dare alla nostra comunità con l'impegno chiaramente che appena le cose miglioreranno riposizioneremo le panchine in piazza Risorgimento. Grazie. Grazie.